Ferzan Ospetek è nato e cresciuto ad Istanbul ma vive in Italia, ma la Puglia è spesso aggirato i suoi film nel Salento. L'autore delle fate ignoranti, Minevaganti, Il bagno turco, si è cimentato come scrittore con Rosso Istanbul, libro nel quale parla del rapporto con le donne della sua famiglia, della madre soprattutto, alla nonna, del padre scomparso per anni e poi riapparso, del suo primo amore, ma anche del ritorno nella sua città, tra nostalgia e malinconia, Apolliniano Ospetek è rimasto però vittima delle suberanze e dell'amichevole perfidia di Dario Vergassola. Ancora una cosa abbiettata in Salento, ci siamo, cos'è che l'ha stregata di più di questa terra? Il sole, il mare o i soldi della Puglia Film Commission? No, i soldi che diamo alla Puglia Film Commission. Ah sì? Sì, perché loro apprendono. Lei ha vinto tutto, Davide Donatello, Nastri d'Argento, Globi d'Oro, è vero che le mancano solo i Gratte Vinci? Vinci è tutto, ha vinto tutto però, cioè venite in Italia a portarci via al lavoro voi turchi. Oh, un bel po' di premi, anche i Globi. In semplice o non altro si dice che si può amare anche due persone allo stesso tempo senza tradire nessuno. Cioè, ecco, perché se lo dico io mia moglie mi prende a randellate, per esempio? Cioè, il concetto qual è di amare due persone senza tradire? No, ma questa è una risposta di mia madre a un certo punto. Lei è sposata due volte. Quando è morto il suo primo marito, lei mi ha detto, dice, senti sono distrutta, dice, perché ho perso l'uomo che amavo tantissimo, l'uomo della mia vita. Ho detto a papà, e dice, tu che fai regista non ti rendi conto che si possono amare due persone?